Ma quando arriverà il vaccino AstraZeneca? Sarà ancora viceministro, Sileri, lei, alla salute? Beh, allora, ho ascoltato con molto interesse ciò che hanno detto e ha parlato dei due cavalli di razza presenti in studio. Sono contento di ciò che ha detto Mule. Io parlo da Somaro, che lavora dalla mattina alla sera. E devo dire che in questo momento sentire tutta questa diatriba su il governo, rimpasti e quant'altro, dico la verità, è anche abbastanza stancante per chi dalla mattina alla sera cerca di portare a casa un risultato che è quello di limitare i morti e la diffusione del virus. Dinnanzi a noi abbiamo purtroppo una risalita del numero dei contagi, non perché l'Italia ha lavorato male, perché questa cosa sta accadendo in nord Europa, le varianti, ve ne saranno anche altre, di varianti. Attenzione, il numero di varianti salirà proprio in concomitanza con l'estensione della vaccinazione. Quindi non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma questo è quello che potrebbe e verosimilmente accadrà. Ovviamente le varianti che oggi abbiamo, diciamo il vaccino funziona, ma ciò che accadrà in futuro questo non lo sappiamo. Quindi al momento continuerò, tornare alla domanda che lei mi ha fatto, a fare il mio lavoro come ho fatto in questo anno e mezzo. Poi sarò viceministro, non sarò viceministro, vi sarà un altro governo, vi sarà un altro governo, vi saranno elezioni, non vi saranno elezioni. Francamente credo che in questo momento continuo a fare il mio lavoro come ho fatto ieri e come farò domani. Nel momento in cui qualcosa accadrà mi regolerò di conseguenza e esprimerò anche il mio giudizio, che a quel punto non sarà del politico, ma sarà più del medico che del politico. Perché, ripeto, tutte queste discussioni fanno veramente molto molto male al personale sanitario che si trova in prima linea, a coloro che si ammalano, ai familiari che si ammalano, a coloro che sono deceduti. Perdonate se parlo più da medico che da politico in questo momento, però vi dico la verità, che da medico questa cosa a me fa molto male vedere tutte queste discussioni. No, no, ma diciamo che è comprensibile assolutamente per chi entra in CEA. Dico solo una cosa.